Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di FanoTV, oggi è lunedì 16 novembre 2015. Il nostro programma, come di consueto, comincia sempre con il santo del giorno, l'almanacco, e quindi lo facciamo anche questa mattina, magari mettendoci anche gli auguri a Gertrude, che è la santa che oggi la Chiesa Cattolica ricorda. Il sole è sorto un minuto dopo le 7, tramonterà le 16.44, oggi avremo un cielo sereno, un poco più nuvoloso, insomma presenza locali nebbie e foschie durante le ore più fredde della giornata, non ci saranno precipitazioni, le temperature sono in ulteriore lieve aumento, i venti nord-occidentali. Per domani, martedì 17, lo stesso più o meno, avremo un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature stazionari e venti nord-occidentali. Qual è la tendenza per i prossimi giorni, in attesa che arrivi questo freddo, il calo delle temperature di cui si sta già iniziando a parlare da qualche giorno, dal 20 novembre in poi? Allora, le condizioni saranno di tempo stabile, continueranno a prolungarsi anche per la parte centrale della prossima settimana, dunque insomma il tempo sarà comunque buono per questi giorni. Allora, visto che arriverà questo peggioramento, godiamoci ancora queste giornate un po' così autunnali. Allora, la cronaca del resto del Carlino ci porta al Lido di Fano, dove un ragazzo è stato pestato dal branco. Un testimone racconta 10 contro una sola persona, era ridotta male, si è presa calci, pugni, schiaffi, alla fine è stato aggredito anche con una bottiglia di vetro. Il racconto è sulla pagina del resto del Carlino di Fano, mi limito soltanto a dirvi che i 10 erano una decina di albanesi, probabilmente tutto è successo per una spallata che nella calca ci sta e si è accesa a una discussione che poi è digenerata subito in rissa. Poi il racconto invece di una donna, Gisella Bianchi, che è il direttore di Aspin 2000, alla quale hanno rubato in casa e lei racconta, mi hanno portato via tutto, non mi sono accorto di nulla, adesso è sotto shock, è derubata mentre lei era in casa. Voglio che la gente sappia che mi hanno devastato le camere e rubato oggetti d'affetto. C'è questo senso di terrore adesso, ho ancora timore a spostarmi nelle stanze di casa mia per paura di incontrarli. Poi nel Montefeltro c'è stata una cena di beneficenza per raccogliere fondi destinati alla mamma di Ismaele Lulli, che è il ragazzino di 17 anni che è stato ucciso brutalmente a Sant'Angelo in Vado. Il Montefeltro è solidale, scrive il giornale, a debora 12 mila euro, serviranno alla madre per le spese processuali, una cena per 700 persone al Palasport, i sindaci di 5 comuni, delle Proloquo, i musicisti, pure il Pugile Larghetti, tutti uniti in nome del 17enne assassinato. Nel giornale troverete anche le fotografie che vedete qua insieme alla mamma. La mamma è questa ragazza, possiamo dire, questa giovane donna, che qui si trova accanto ad un altro personaggio che conosciamo molto bene e che in qualche modo Ivan Cottini sta lottando per un'altra grande causa, cioè quella della SLA, la malattia, scusate, la distrofia muscolare, insomma, la sclerosi multipla. Allora, questo è il giornale. Poi la paura corre in stazione invece a Pesero, dove di notte non ci si può andare, alla stazione ferroviaria di Pesero, racconta il colonnello, un colonnello in pensione, Antonio Ferrari, racconta la sua disavventura e dice due extra comunitari molto aggressivi, mi hanno fronteggiato, non c'era nessuno a cui chiedere aiuto, la stazione era completamente deserta e la polizia ferroviaria, a quanto mi hanno detto, smonta di turno alle ore 22. Poi a Cantiano invece una donna, di 43 anni, è stata salvata in extremis, era in overdose da metadone, se lo era iniettato ed era moribonda in casa. Apriamo adesso invece la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Ex mattatoio, via la demolizione, conclusa la bonifica dell'amianto, mascarina, l'assessore conferma l'abbattimento dell'imponente struttura. Rispetteremo, dice, i tempi, entro il 31 dicembre chiuderanno tutti i cantieri per il risanamento. Trovano invece il ladro in cortile e lo fanno arrestare, gli gridano di andarsene, ma lui non recede, continua nella sua azione e dunque è stato inseguito da due fratelli e tra le braccia del carabiniere, alla fine è finito questo francese di 32 anni, già autore di reati analoghi. La pagina di Pesaro invece, sempre del Corriere Adriatico, vedete i nuovi 20 volontari che si occuperanno della tutela degli animali, sulla vostra destra il giuramento di 20 guardie e zoofile. Sotto invece i 6 milioni di euro in difesa del San Bartolo contro il dissesto idrogeologico, la provincia bussa a cassa in regione, progetti per i fondi europei. La richiesta di finanziamenti è stata inserita in un dossier e il lavoro completato entro i termini fissati. La pagina di Pesaro e provincia, ISMI che è il diminutivo con cui viene chiamato Ismaele, sono forte perché tu sia fiero di me, sono parole toccanti della mamma del ragazzo ucciso, parole che hanno commosso le oltre 800 persone presenti alla cena di beneficenza. Poi l'appello ai giovani, la mamma dice il male travolge soprattutto i deboli, difendetevi studiando. La pagina di Pesaro invece, l'abbiamo già vista, andiamo sul messaggero, eccola qua la pagina principale di Pesaro, eccola qui. Naturalmente una foto in primo piano dove c'è l'ingresso del Bataclan Café. Il massacro di Parigi, Mariani, l'esperto pesarese, dice, uccidono come nei videogiochi, l'ordine è quello di seminare terrore. Poi si parla delle telecamere di sicurezza, telecamere così dette intelligenti, verranno installate entro la fine dell'anno a Cattabrighi al casello della 14 dell'autostrada, leggeranno la targa dei veicoli. Poi dalle pagine interne, anche qui, l'ondata di solidarietà per tutto quello che è successo a Parigi, tra stadi, teatri e piazze. Ad Ancone il Pallarossini ispezionato prima dei Negramaro, del concerto. Supercontrolli agli spettatori. Poi al Pergolesi invece, bandiere listate a lutto, al Del Duca lo striscione che appunto richiama ciò che è accaduto a Parigi. Poi sotto vedete altre fotografie, le finestre del Pergolesi, come dicevamo, il flash mob allo sferisterio e poi la partita a Ascoli Perugia con l'esecuzione della Marsigliese. Mentre arriva una ferma condanna da parte dell'imam di Fermo. Andiamo e sotto invece troverete la testimonianza di cui vi parlavo, la testimonianza di Ermete Mariani che dice sono destratti e coordinati, uccidono come nei videogiochi. Il ricercatore pesarese che vive a Parigi e lavora al Comitato Atlantico. Hanno lanciato pure un messaggio interno, l'esperienza di Al Qaeda è finita e quindi l'ISIS è la forza adesso più grande. Hanno voluto dimostrare che sono in grado di organizzare un altro attentato nella Francia dopo quello che era accaduto qualche mese prima a gennaio a Charlie Hebdo. Due ore in ostaggio e terroristi sparavano anche ai feriti a terra. Il racconto shock di Max Natalucci, sventagliate di mitra ad altezza uomo, mentre la tatuatrice Laura Appolloni sta meglio e la mamma dice aspettiamo solo che torni a casa. Mentre Max dice prima ho sentito un'esplosione, poi la raffica dispara. Decine di corpi erano spassi in tutta l'arena, ho visto scene raccapriccianti. Stiamo parlando di questi due giovani, di queste due persone che sono, vivono. adesso Max lavora più che altro all'estero, però insomma sono di Senigallia, la ragazza lavora come tatuatrice. Ma ci sono anche altri italiani che in qualche modo erano da quelle parti, erano nella zona teatro di quella carnificina. Scuola, cambiamo argomento, sulla pagina di Pesaro, scuola Santa Marta e i lavori sulle strade oggi in consiglio comunale a Pesaro. Interrogazione del Movimento 5 Stelle, attesa la risposta dell'assessore Ceccarelli, rinviata a dopo le feste la nuova pavimentazione di via Cavour. Poi continuano a spiaggiarsi purtroppo le tartarughe, non passa giorno che arrivi una segnalazione di una specie caretta caretta che si trova sulle nostre spiagge e poi le notizie che potrete trovare sul giornale dalla cronaca, piccola grande cronaca come un garage che è andato a fuoco e tante altre. Andreani invece, qui parliamo di imprenditoria, Andreani l'azienda è come la scuola, non bisogna mai mollare, l'industriale ha inaugurato il ciclo di appuntamenti che puntano a diffondere per la cultura dell'impresa. Chiudiamo con l'ultima pagina, ma poi abbiamo anche quelle due di sport. Sicurezza, arrivano le telecamere smart, verranno installate come dicevo all'ingresso di Pesaro, l'ingresso nord di Pesaro e anche al casello della 14. Potranno leggere anche le targhe dei veicoli in transito. L'assessore della Dora dice che saranno collocate dentro la fine dell'anno, poi toccherà alla Monte Labattese e alla Statale Adriatica. A Pesaro, dopo le razzie notturne e contro i predatori del porto, anche la Capitaneria chiede occhi elettronici, quindi occhi elettronici intese come telecamere. Poi due fratelli inseguono il ladro e lo fanno arrestare. Ceriscioli, chef per un giorno, chiude la fiera del tartufo, parliamo di quella che si è tenuta ad Acqualagna, il governatore ha preparato un piatto della tradizione. Il sindaco dice, insomma, è stato bravo, se la cava anche ai Fornelli. Andiamo adesso a vedere velocemente la pagina sportiva del Carlino. Fano, Fano che ha vinto ad Avezzano 4-2, Sivilla 1-2-3. Fano torna alla vita e Granata sotto di un gol. Scacciano gli incubi nell'intervallo. Il ritorno in campo è devastante per l'Avezzano. E negli spogliatoi deve essere successo qualche cosa. Infatti, i ragazzi si sono guardati negli occhi, dice Alessandrini, l'allenatore. Vittorio che vale doppio. La ritrovata forza interiore ci ha permesso di superare l'ostacolo. Mentre a reti inviolate è finita la partita del Vispeso a Castelfidardo. 0-0, Vis solida e spuntata. A Castelfidardo nessun rischio, ma la fase offensiva è inefficace. Partita del Fano invece che troverete potrete seguire in versione integrale questa sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia che come sempre andrà in onda alle 20.30. La rassegna invece finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata e a domani. Grazie per aver guardato il video.